Petardi e candelotti realizzati artigianalmente sono stati trovati e sottoposti a sequestro nei giorni scorsi dai poliziotti del commissariato di Milazzo. Gli agenti impegnati nell'attività di controllo del territorio intensificata nei giorni delle festività natalizie appena trascorse sono stati attratti da un primo boato seguito da un secondo dopo pochi istanti entrambi provenienti dall'area prospiciente agli uffici della locale Capitaneria di Porto dove subito dopo due ragazzi minorenni di 16 e 17 anni sono stati individuati e sottoposti a controllo. Compresa la natura dell'esplosione dovuta alla detonazione di alcuni petardi i poliziotti hanno proceduto al sequestro di ulteriori 15 candelotti contenenti materiale esplodente custoditi nel vanno sottosella del motociclo di uno dei due minori entrambi segnalati alla procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Messina per il reato di fabbricazione e detenzione di materie esplodenti. Dopo gli atti di rito i minori sono stati riaffidati ai rispettivi genitori sono in corso ulteriori indagini per stabilire la provenienza del materiale sequestrato.